La presentazione clinica della dissezione ortica di tipo B è frequentemente male inquadrata da un punto di vista diagnostico, tant'è che secondo alcune analisi solo 4 pazienti su 10 ricevono la corretta diagnosi nel setting di pronto soccorso. Nel caso in cui questo non avvenga ogni tanto si ritrova a leggere le notizie sulle pagine di cronaca anche in funzione dell'elevata mortalità di questa patologia che raggiunge il 10% nelle prime 48 ore qualora non venga diagnosticata e trattata. Esiste una chiara correlazione genetica con l'insorgenza di dissecazione ortica per quanto riguarda le collagenopatie di cui abbiamo già sentito parlare diffusamente prima e anche stamattina e altresì nota una correlazione temporale tra insorgenza di sintomi di dissezione, i mesi freddi della stagione e le prime ore del mattino. Esistono dei fattori scatenanti quali forti stress fisici o emotivi come un esercizio fisico ad alto carico, un'emozione intensa e improvvisa quali la notizia di un lutto, di aver perso tutto il gioco, di aver perso il lavoro, il travaglio di parto e l'abuso di sostanze quali la cocaina. L'insorgenza di dissezione può essere nel contesto di questi trigger o anche a distanza di alcune ore da esso. Le tre sindrome cliniche che principalmente sono descritte in caso di dissezione ortica di tipo B sono il dolore, il dolore che è presente nella quasi totalità dei pazienti che lo descrivono come il peggiore mai provato con una sensazione associata di morte imminente. La qualità di questo dolore è un dolore trafittivo, pugnalata, lacerante, in alcuni casi orente, che ha un'insorgenza acuta o iperacuta rispetto anche ai trigger di cui avevamo parlato prima ed è refrattario ai tradizionali analgesici. Per quanto riguarda la localizzazione del dolore, questo è quasi sempre localizzato al petto, principalmente interscapolare nella dissezione di tipo B e solo nel 20-25% dei casi è descritta la tipica componente migratoria. In questo testo abbiamo raccolto le descrizioni dell'esperienza del dolore dei pazienti con le proprie parole, non con le parole che troviamo sui libri di testo, che sono particolari per quanto riguarda il ricordo vivido e caratteristico, quali il primo caso che lo descrive come una cerniera che gli si apre dal petto lungo lo stomaco, altri casi che lo descrivono come una sega elettrica che dilania il torace. Fino al... Non so perché va davanti da solo... Fino... è importante comunque notare che il 5-6% dei pazienti non prova un dolore tipico o comunque non prova dolore e questo è più frequente nei pazienti anziani e diabetici che tendono a presentarsi tardi al pronto soccorso e quindi a essere meno inquadrati prontamente rispetto agli altri. La seconda presentazione clinica è l'ipertensione elevata, severa e refattaria al trattamento che presenta nel 70% dei pazienti, tipicamente nell'anziano con una progressa storia di ipertensione è associata a un'elevata mortalità e può essere sostenuta da una malperfusione renale dovuta al flap dissecativo. In altri casi può essere sostenuta dall'intenso release di catecolamine dovuto al dolore che attiva il sistema renino-angiotensino-aldosterone, mantiene lo stato ipertensivo e quindi favorisce la propagazione della dissezione col crearsi di un circolo vizioso. Le sindrome da malperfusione dovute all'interruzione statica o dinamica dei collaterali aortici sono presenti nel 30% dei pazienti, sono correlate a un'alta mortalità, seconda per frequenza solo a quelli della rottura a tutto spessore della aorta. Nel 30% dei pazienti circa interessano gli arti inferiori con di solito una presentazione di schemia acuta mono o bilaterale, meno di frequente interessano i vasi viscerali con necrosi degli organi addominali o con insufficienza renale acuta in caso di interessamento delle arterie renali e in una porzione ancora minore dei casi, 1-2% comportano l'insorgenza di paraparesi o paraplegia per interessamento estensivo del circo intercostale. Considerando tutte queste varie presentazioni, è importante tenere in mente, quindi avere la consapevolezza da qui l'awareness day, di potersi trovare davanti a una dissezione aortica in caso di pazienti che si presentano con dolore toracico e a maggior ragione nei pazienti che presentano un fenotipo caratteristico e fattori di rischio predisponenti noti. È importante pertanto, in caso di non chiara diagnosi alternativa, procedere con un imaging aortico, di solito angiotac, che ci permetta di confermare o escludere la presenza di dissezione e quindi di pianificare il trattamento. Sempre per quanto riguarda la diagnosi differenziale, può venirci in aiuto il didimero, che con la stessa soglia che utilizziamo nell'embolia polmonare permette di escludere, specialmente nei casi a basso rischio, la presenza di dissezione. Concludendo, la dissezione aortica di tipo B presenta uno spettro di sovrapposizione con molte altre condizioni. La più frequente, le sindrome coronariche acute di cui condivide il background e che sono 100 volte più frequenti, quindi di solito attraggono maggiormente l'attenzione. E per tutti questi motivi è importante pensare a dissezione ed escluderla con dell'imaging o con le altre modalità prima di dimettere i pazienti. Grazie.